Ciao da Lucia, oggi voglio presentarvi il mio scaldacollo Infinity a punto archetti. Vedete, è graziosissimo, semplicissimo da fare, vedete la lavorazione tutta ad archetti, lo rende molto leggero ma molto molto caldo ed ha un doppio modo per indossarlo. Si può indossare o come scaldacollo o sciarpina oppure in caso proprio di freddo incredibile si può anche decidere di usarlo come cappuccio. Io lo trovo veramente molto grazioso, anche come cappuccio, vedete, copre perfettamente perché è molto alto e quindi copre perfettamente anche come cappuccio. Lo trovo veramente molto comodo, molto d'effetto, nonostante la lavorazione è semplicissima, vedrete che è veramente veramente molto semplice come lavorazione. Ha questi pippiolini per renderlo, insomma, per dare un po' la rifinitura al punto archetti che di per sé è molto molto semplice. E niente, non ho nient'altro da dire perché è veramente molto grazioso questo scaldacollo. Io l'ho fatto in tre ore, quindi è anche velocissimo da fare, va bene per le principianti, va bene. La lavorazione infiniti certo richiede un po' d'attenzione all'inizio della lavorazione ma spero di averla spiegata bene e quindi che sia accessibile a tutte. Bene, io vi lascio al tutorial, spero che questo tutorial vi piaccia, spero lo troviate chiaro. Vi lascerò anche il link della merceria.spilo che è la merceria dalla quale mi rifornisco perché ho usato questo filato e poi ovviamente nel tutorial vi do tutte le informazioni sul filato. Basta! Vi aspetto nel mio gruppo Facebook Creando con Luci e Franci. Spero che anche questo tutorial vi piaccia. Che dire, baci baci da Lucia! Ciao! Eccoci qua! Allora, per il nostro progetto io ho utilizzato 200 grammi di lana Bravo. La lana Bravo è un 100% acrilico, vi assicuro di una morbidezza veramente incredibile. e 200 grammi vi verrà fuori una sciarpa infiniti, allora alta, ve lo dico subito, 70 centimetri. Quindi 70 centimetri di altezza. La circonferenza adesso mi viene un po' difficile calcolarla perché incrociata così, insomma, diventa un po' difficile calcolarla. Quindi, però vi dico che ho montato 90 catenelle. La mia lana Bravo l'ho lavorata con un uncinetto, vediamo se si vede, del 5 e mezzo. Poi ci servirà un marca punti e ovviamente un ago da lana e un tagliafili per poi rifinire il tutto. Allora, è lavorata semplicemente a punto archetti, vedete, e l'ultimo giro ho fatto i pipiolini che sono assolutamente facoltativi. Quindi, se volete finirla anche soltanto così, col punto archetti, devo dire che è molto molto bella. Anche se è così forata, perché comunque il punto archetti, si sa, è tutto un traforo, non ha molta copertura, è molto calda perché ovviamente 70 centimetri alla fine vi ritrovate tutto sul collo e quindi rimane molto calda. Nonostante il punto archetti molto traforato, rimane comunque caldissima. Ora vi farò vedere un campione della lavorazione, perché ovviamente io l'ho già fatta, e però vi spiego bene come si fa. Andiamo subito a vedere il procedimento. Allora, io per il campione ho fatto 40 catenelle. Ovviamente voi per la nostra sciarpa Infinity decidete sicuramente quanto farla larga e quindi è a piacimento. Però, ovviamente, per l'originale, quindi per la mia sciarpa Infinity, ho montato 90 catenelle. Procediamo in questo modo. Quindi le nostre 90 catenelle le dobbiamo chiudere in cerchio, quindi tenendo la catenella dritta andiamo a chiudere in cerchio. Ecco qua, con una maglia bassissima. Stringo un po' la maglia, ecco qua, la catenella iniziale. E vado a fare una catenella, che sarà la nostra prima maglia bassa. Dopodiché faccio 5 catenelle. 1, 2, 3, 4 e 5. Salto 3 catenelle di base. Vedete? 1, 2, 3. Entro nella quarta con una maglia bassissima. Eh, scusate, con una maglia bassa. Di nuovo 5 catenelle. 1, 2, 3, 4 e 5. Di nuovo salto 3 catenelle. 1, 2 e 3. Nella quarta maglia bassa. Di nuovo, 1, 2, 3, 4 e 5. Di nuovo, 1, 2, 3. Nella quarta maglia bassa. Quindi procediamo in questo modo fino al termine del giro. Eccoci arrivati alla fine del giro. Se non dovesse retornarvi il numero di catenelle perché il multiplo non è giusto, allora con questo punto poco importa, perché comunque rimarrà nel mezzo della lavorazione, quindi non ci interessa più di tanto. Ora cosa facciamo? Invece di agganciarci, quindi facciamo le 5 catenelle. 1, 2, 3, 4 e 5. In questo caso io il multiplo ce l'avrei, però anche se non doveste averlo, non vi preoccupate, perché comunque sono poche maglie e vi faccio vedere che cosa dobbiamo fare. Invece di agganciarci qua, nella prima maglia, con una maglia bassa, noi cosa facciamo? Giriamo il nostro lavoro in questo modo. Vedete qua c'è la codina iniziale. E cosa facciamo? Agganciamo nella primissima catenella sotto, quindi quella già lavorata, ma la prendiamo da sotto, quindi in questo modo, proprio dove c'è la codina. Entriamo così e facciamo la nostra maglia bassa. Come se andassimo avanti, anzi non come se, andiamo avanti praticamente a lavorare il nostro punto come se niente fosse. Ora cosa facciamo? Allora, giusto per farvi capire, io prendo il mio marca punti e lo metto proprio qui, nella prima maglia del primo giro. Vedete? Noi qua avevamo fatto il primo giro, eravamo partiti da qua. Ora io l'ho girato e sotto, qui, ho messo il marca punti giusto per farvi capire come funziona il giro dell'infinity. Quindi per chi non l'avesse mai fatto, almeno capisce bene cosa andiamo a fare. Ora procediamo normalmente, quindi 5 catenelle, 2, 3, 4 e 5. E non dobbiamo neanche più contare, perché noi andiamo ad agganciarci nella stessa catenella della maglia alta già lavorata. Quindi in questa. Però da sotto. Quindi noi l'abbiamo lavorata nell'altro senso, adesso stiamo lavorando sotto alle catenelle. Ora di nuovo 5, 2, 3, 4, 5. Di nuovo senza contare, tanto l'abbiamo già lavorata, andiamo ad agganciarci nella stessa catenella dove abbiamo già fatto la maglia bassa. Di nuovo 1, 2, 3, 4 e 5. Nuovamente nella stessa catenella già lavorata facciamo la nostra maglia bassa. Di nuovo 1, 2, 3, 4, 5. Nuovamente nella catenella già lavorata maglia bassa. 1, 2, 3, 4, 5. Di nuovo maglia bassa nella catenella già lavorata. 1, 2, 3, 4, 5. Di nuovo maglia bassa nella catenella già lavorata. 1, 2, 3, 4, 5. Nuovamente maglia bassa nella catenella già lavorata. 1, 2, 3, 4, 5. Nuovamente. Ora vi faccio vedere dove stiamo arrivando. 1, 2, 3, 4 e 5. Di nuovo maglia bassa nella catenella già lavorata. e vi faccio vedere che 1, 2, 3, 4, 5. Noi siamo, abbiamo girato. Noi avevamo attaccato sotto il marca punti e quindi abbiamo già l'incrocio. Vedete che qua ha fatto già la torsione? Abbiamo già praticamente fatto la torsione. Noi l'avevamo attaccato il marca punti da questo lato. Esatto, così, sotto. Noi lavorando adesso abbiamo fatto la torsione. Ce lo troviamo? Giusto. Quindi cosa facciamo? Non ci agganciamo con la maglia bassa. Togliamo il marca punti. Semplicemente, questo era solo per farvi vedere che ha già fatto la torsione. Cosa facciamo? 5, andiamo ad agganciarci direttamente dentro nell'archetto con una maglia bassa. 5 catenelle 2, 3, 4, 5 archetto maglia bassa 1, 2, 3, 4, 5 archetto successivo maglia bassa Ora, noi non abbiamo più un giro da rispettare noi semplicemente lavoreremo un giro sopra e un giro sotto ma verrà naturalmente vi faccio proprio vedere non dobbiamo più girare assolutamente nulla sarà tutto il lavoro noi dobbiamo soltanto non avremo più né inizio né fine per questo si chiama infinity perché noi andremo avanti a fare le nostre 5 catenelle ci agganciamo nell'archetto in questo modo e lo faremo fino a tutta la lunghezza della nostra sciarpa scaldacollo 1, 2, 3, 4, 5 e mi aggancio al centro dell'archetto non abbiamo più veramente né inizio né fine noi procediamo sempre così vedete? la torsione l'ha fatta naturalmente noi non dobbiamo fare nient'altro allontano un attimo così ve lo faccio vedere vedete? il lavoro ha già la torsione e noi non dobbiamo fare più niente dobbiamo solo fare le 5 catenelle e agganciarci al centro dell'archetto sarà la lavorazione che girerà naturalmente senza nessunissimo impegno da parte nostra noi dobbiamo soltanto fare le 5 catenelle agganciarci al centro dell'archetto e farà tutta la lavorazione vedete? noi siamo di nuovo arrivati all'inizio al contrario noi adesso eravamo partiti da qua e siamo qua dove ho tolto il marca punti scusate dove ero partita il marca punti l'avevo tolto da qua noi adesso siamo qua di nuovo 5 catenelle 3 4 e 5 entriamo nell'archetto e facciamo la nostra maglia bassa 1 2 3 4 e 5 tenetela la codina perché così vi rendete conto da dove siamo partiti maglia bassa 1 2 3 4 5 adesso sto lavorando largo per farvi vedere però comunque la lavorazione è sempre questa non avete né inizio né fine non dovete fare catenelle di inizio catenelle di fine maglie bassissime per congiungervi non dovete fare nulla di tutto ciò dovete soltanto andare avanti a fare le 5 catenelle e agganciarle al centro dell'archetto successivo senza entrare nella maglia non è necessario 1 2 3 aspettate 4 e 5 di nuovo mi aggancio nell'archetto 1 2 3 4 5 mi aggancio nell'archetto 1 2 3 4 5 mi aggancio nell'archetto 1 2 3 4 5 mi aggancio nell'archetto vedete? stiamo crescendo e vi rendete conto che stiamo lavorando sia sotto che sopra perché questa è la catenella centrale quindi noi stiamo lavorando sia sopra che sotto senza dover mai vedete qua è dove torce senza dover mai girare niente è la lavorazione che gira da sola vedete? in questo modo quando arriviamo a fine lavoro dobbiamo semplicemente agganciarci facciamo le 5 catenelle e ci agganciamo non al centro della maglia ma se vogliamo anche al centro della maglia però io per comodità mi sono agganciata nella maglia bassa che incontro con una maglia bassissima e cosa ho fatto? l'ultimo giro l'ho fatto in questo modo quindi faccio le 5 catenelle aggancio quando ho agganciato faccio 1 2 3 catenelle entro nella prima catenella delle 3 che ho appena fatto quindi in questa e faccio una maglia bassissima e ho fatto il pipiolino poi faccio le mie 5 catenelle 3 4 e 5 entro nell'archetto successivo ma aggancio con la maglia bassa di nuovo 3 catenelle per fare il pipiolino entro nella prima delle 3 catenelle appena fatte ne esco e chiudo con una maglia bassissima e di nuovo 5 catenelle entro nel prossimo archetto e faccio la mia maglia bassa di nuovo 3 catenelle per fare il pipiolino entro nella prima delle 3 catenelle appena fatta in questo modo proprio al centro ne esco faccio la maglia bassissima 5 catenelle prossimo archetto entro e faccio la maglia bassa vi faccio vedere meglio il pipiolino un po' più da vicino ecco qui me lo prendo proprio vicino allora faccio 1 2 3 catenelle queste sono le mie 3 catenelle entro nel primo nella prima delle 3 catenelle questa così esco esco dall'occhiello che ho sull'uncinetto e ho fatto il pipiolino dopodiché faccio 1 2 3 4 e 5 ed entro nel prossimo archetto con la maglia bassa posso riallontanare aspettate ecco qua di nuovo 5 catenelle 1 2 3 4 e 5 prossimo archetto entro maglia bassa 3 catenelle 2 3 entro nella prima delle 3 catenelle magari fatele un po' più larghe così riuscite bene ad entrare ed uscire uscite uscite da tutte le catenelle che avete anche sull'uncinetto e avete fatto il pipiolino di nuovo 5 catenelle entrate nel prossimo archetto in questo modo vedete state facendo i pipiolini qua sulla maglia bassa di nuovo 3 catenelle per fare il pipiolino entro faccio il pipiolino 1 2 3 4 5 prossimo archetto maglia bassa 3 catenelle la prima delle 3 faccio il pipiolino di nuovo 1 2 3 4 5 di nuovo archetto successivo maglia bassa di nuovo 3 catenelle per fare il pipiolino vedete la lavorazione è molto semplice quindi 1 2 3 4 5 di nuovo archetto vedete non abbiamo più né capo né coda è proprio infinita la lavorazione ora perché sto facendo i pipiolini perché vi sto simulando l'ultimo giro perché ma se vedete è infinita non c'è inizio e non c'è fine almeno che c'è la fine c'è quando arrivate alla fine però all'altezza che desiderate lì è la fine però non c'è inizio giro fine giro è proprio tutta una lavorazione va su a spirale in pratica quindi non avete più nessunissima devo contare devo unire maglie basse maglie bassissime giunzioni che si vedono no assolutamente la torsione la fa automaticamente dopo il primo giro quando noi andiamo a girare da sotto a sopra la prima maglia lì e poi basta non dobbiamo più fare niente quindi 3 catenelle il nostro pippiolino volevo farvi vedere come chiudere perché è tutto talmente semplice che vedete la spiegazione è durata meno di un quarto d'ora perché veramente 2,3,4,5 è durata meno di un quarto d'ora perché veramente è di una semplicità estrema quindi 3 catenelle pippiolino 5 catenelle quindi facciamo l'archetto nuovo entriamo nell'archetto successivo maglia bassa 3 catenelle veramente una cosa semplicissima ed è un bellissimo effetto comunque perché viene veramente un bellissimo scaldacollo 1 2 3 4 5 di una facilità estrema quindi anche per le principianti è semplicissimo tutto sta a fare bene il primo giro quindi quello doveva fatta la torsione del lavoro la prima volta se fate giusto quello il lavoro è scorrevolissimo quindi non dovete più proprio preoccuparvi di niente non dovete contare non dovete fare niente fa tutto lui 1 2 3 4 5 vedete quanto dura un giro perché in realtà il giro non è 1 sono 2 e vi faccio vedere vedete che sotto abbiamo già il pippiolino noi l'abbiamo fatto sotto adesso stiamo facendo l'altro lato ci accorgiamo che siamo arrivati quando obiettivamente col pippiolino ci rendiamo conto perché vediamo dove è il pippiolino e dove non c'è se invece andiamo avanti solo ad archetti non ci rendiamo neanche conto qual è l'inizio e qual è la fine perché non c'è inizio e non c'è fine ecco qua siamo quasi arrivati 3 faccio il mio pippiolino lo chiudo 1 2 3 4 5 ecco che siamo arrivati vedete allora faccio l'archetto faccio in questo caso ne faccio solo 3 perché cosa faccio mi aggancio qua mi aggancio direttamente nella maglia bassa entro perché vedete ho finito di girare qua ho il pippiolino quindi sono arrivata entro nella mia bella maglia bassa faccio la mia maglia bassissima io faccio sempre una catenella di sicurezza stacco il filo in questo caso ho dimenticato il tagliafili quindi lo farò alla brutta proprio vedete vado a fermare il mio filo nelle catenelle o comunque nella lavorazione non è molto indicato questo dovrei averne un altro ma non ce l'ho qua in questo momento quindi vabbè non è molto indicato vado a nascondere comunque il mio filo nella lavorazione magari seguendo faccio un po' dentro fuori le catenelle di modo da nasconderlo e fare in modo che non si non si stacchi diciamo quindi entro esco un po' dalle catenelle lo fermo ok farò la stessa cosa con l'inizio del lavoro ma vedete il lavoro gira in questo modo ce l'abbiamo così vedete fa questa torsione in questo modo è stato proprio un tutorial brevissimo direi perché è veramente breve 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 schiarisco un pochino così si vede un tutorial brevissimo l'effetto che voi avrete avrete è questo quindi quello di avere un bellissimo scaldacollo vedete questa è la lavorazione non c'è dritto e rovescio in questo caso perché anche quando avrete il dritto vi ritroverete comunque la parte che gira è proprio identico qua è fatto in piccolo ovviamente per farvi la spiegazione però è veramente molto 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 semplice proprio il segreto sta nel primo giro e nel 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 secondo giro il fatto di fare il saltino e congiungersi senza maglie bassissime senza niente cioè proprio andare avanti nella lavorazione questo è il segreto dell'infinity vedete è proprio questo viene fuori questa questa lavorazione qua che io trovo molto molto bella allora se volete trovare il mio stesso filato quindi la lana bravo la trovate sempre da merceria punto spillo la mia amica Marisa Marino io mi rifornisco lì ovviamente questo filato mi dava come indicazione di uncinetto 3 è 6 dal 3 al 6 io scusate dal 3 al 4 millimetri io ho usato il 5 e mezzo volevo una cosa una catenella un po' più morbida quindi ho usato questo uncinetto ne ho usati 200 grammi quindi per un'altezza di 70 centimetri ho montato 90 catenelle vi riassumo tutto così vi potete segnare tutto io spero vi sia piaciuto questo breve tutorial spero che vi sia piaciuto il mio scaldacollo infiniti vi rinnovo l'invito nel mio gruppo facebook creando con luce franci un bacione da lucia grazie per avermi seguito al prossimo tutorial ciao ciao